Ciao e bentornati nel terrore! Sono usciti da poco, allora tenete presente una cosa che noi vorremmo pubblicare il giorno stesso in cui pubblichiamo le cose ma abbiamo tante cose vecchie da fare che non riusciamo a pubblicarle tutte per tempo quindi a volte arriviamo con qualche giorno di ritardo Miraculous, Ladybug e una su tre è un personaggio di ma dai vita le sorprese con l'applicazione e all'interno le altre sorprese non si sa che cosa siano vabbè, tre ovetti, via, uno a testa con la tipica cosa rosa con la tipica cosa rosa, assolutamente tipica tipica degli ovetti kinder tipica degli ovetti kinder allora, io ho trovato il giallo, quindi con una mano! con una mano! e ha trovato anche lo special con una mano, avvio! vai, aprilo, aprilo con quello giallo vai questi sono più difficili da rompere si è sbriciolato completamente il mio come vai quello? vieni oh, quelli brutti vuol dire che... oh mamma no, i dondolini no non li sopporto allora... qual'è? è una specie... mi è una specie di... riesci a fare un verso più simile a quello di un essere umano o... per forza i pipistrelli? allora, io ho trovato vi faccio vedere si è staccato... ma perché si è staccato? ho fatto quello che vi dicevo ma manca un pacco allora... ah, perché si assembla e poi si aggancia ah, perché è seduto ecco qua questa è la specie di... ci abbassiamo ancora un po' perché sono veramente piccoli oggi di altalena il mio è un spruzzino questa è l'altalena poi c'è la bassalena cioè, voi schiacciate qua e dalla collana spruzza tutta l'acqua che ha dentro ok, questa invece è un'altalena su cui vanno posizionati questi alieni di cui dovremmo avere anche gli adesivi no, sono da colorare sono bianchi e basta non c'è dentro niente è assolutamente nulla quindi non mi piacciono alieno... sì, se c'è la pompetta dietro è carino quantomeno è carino però vediamo che... questa credo sia l'edizione puntiamo su Ladybug vogliamo Ladybug o Chat Noir e abbiamo trovato questa è l'edizione dedicata alle transformation e ai nuovi personaggi wow noi abbiamo trovato Ladybug ma in questa versione sentite la voce come si è abbassata perchè sta cosa mi interessa no? però cominciamo con questa in questa versione dove? adesso? sì wow ah wow hai trovato anche degli adesivi? wow sì e questo è quello che dovrebbe uscire ora vedremo la qualità del prodotto perchè sulla carta è fatto bene vediamo aspetta che devo capire come va no è che abbiamo delle intromissioni dall'esterno le intromissioni dall'esterno ma questo non è un adesivo questo mi ha messo sulla base va beh fa niente ah ah io voglio vedere come è venuto no dobbiamo aspettare allora giochiamo con la giostrina mettiamo l'alieno di qua e cade di lì mettiamo l'alieno di qua e cade di qui e poi li trovo a ridere così sì sì allora smetto mi farei sbellicare dalle risate no è che non riesco a farlo stare in bilico allora mettiamoli insieme forza alieni e non sono capace è fantastico e allora spruzzo l'acqua su tutti va bene si avvisano i gentili spettatori che Ladybug è in ritardo porta un ritardo di 5 minuti arrivo o no? è orribile come è orribile? ma non è vero è plasticissima sì è plasticissima non mi fa ridere che lui è plastic è bla no allora devo dire una cosa ne abbiamo viste di più belle è abbastanza non riesce a metterla a fuoco perché è veramente sottile è bruttina più che altro che la posizione sembra del tipo aspetto perso l'autobus ferma l'autobus con la mano davanti ferma l'autobus sto arrivando cioè non è proprio dinamica plastica aspettami ah è la tattica della maglietta in più cioè la maglietta è tutta tempestata di poire ma fatti ma cioè non mi piace non mi piace eh? la plastica la plastica è plastica sì ma ne abbiamo visti di migliori di plastica cioè questo è un po' così non è legno ah grazie io mangio cioccolato intanto per recuperare il fatto che non è bella Ladybug va bene direi che non è andata benissimo ne abbiamo trovato di più belle in passato di cose più belle assolutamente però non potevamo abbiamo visto Ladybug cosa fai? non la compri certo hai visto Ladybug ho visto Ladybug io ero a scuola esatto e l'ho preso per te quindi noi vi ringraziamo vi ricordiamo di iscrivervi al canale mettere un like o di vedere commentare schiacciate la campanella per essere aggiornati su tutti i video e altro tutto quello che volete e come sempre mentre Sara live e shorts anche sì ma non ne facciamo mai gli shorts faremo una live prima di Natale sicuramente forse come per i pacchetti delle patatine potremmo fare una live puoi trovare una sorpresa ha sciupicato nel momento in cui è fantastico sembrava va bene devi dire qualcosa tu? noi vi sentiamoci nel prossimo video ciao